E ora purtroppo vi devo salutare, ma lo sapete, ho un debito da saldare, raccontarvi il luogo straordinario dal quale vi sto parlando, il Campo d'Olio e i Musei Capitolini, per questo mi affido volentieri alla mia guida, lascio la parola a Francesco Leone. Il Colle Capitolino è uno dei luoghi più emblematici di Roma, qui si uniscono in un bel composto i resti di Roma antica, la città moderna voluta dei papi e l'amministrazione anche attuale della città di Roma. Dopo un lungo periodo di decadenza coincidente con il Medioevo, fu con il 1144 l'istituzione del Comune di Roma che il Colle ebbe una nuova vita. Papa Paolo III Farnese, alla metà del Cinquecento, affidò a Michelangelo la risistemazione dell'intera piazza. Il fulcro ne divenne appunto il Marco Aurelio, per il quale ideò la base marmorea, progettò anche la doppia rampa d'accesso al Palazzo Senatorio, il prospetto del già esistente Palazzo dei Conservatori e infine l'intero Palazzo Nuovo. Il Museo Archeologico nacque con i finanziamenti del gioco dell'otto, fu Clemente XII ad istituire il gioco dell'otto e pensate che si teneva proprio sulla piazza del Campidoglio, sotto la statua del Marco Aurelio. Questa che vedete però è soltanto una copia, la statua antica è collocata nella nuova esedra inaugurata soltanto di recente. Tra le opere che arricchiscono le raccolte del Museo Archeologico vanno ricordate senza dubbio la celeberrima lupa Capitolina e ancora il Galata Morente e la Venere Capitolina per la quale fu ideata e realizzata un'esedra che la potesse racchiudere. Tra le opere di età moderna quasi a confronto vanno ricordate la statua di Papa Urbano VIII Benedicente di Gian Lorenzo Bernini e la statua bronzea di Alessandro Algardi che raffigura Papa Innocenzo X Confili. Nel Palazzo dei Conservatori dei bellissimi affreschi corredano la stanza degli Orazzi e dei Curiazzi eseguiti dal Gavaliere d'Arpino tra il 1612 e il 1613. Da qui, da questa celeberrima piazza si dominava il Foro Romano e alle nostre spalle il Tevere, via d'accesso alla città di Roma. Resta uno dei luoghi più significativi e di alto valore simbolico della città e dell'intero mondo occidentale. Allora, vi è piaciuta questa puntata di Stella del Sud? Spero proprio di sì. E ricordatevi, se volete rivedere questa o le altre puntate, andate sul sito www.stelladelsud.rai.it e magari lasciateci i vostri suggerimenti, i vostri messaggi. Vi ringrazio di essere rimasti con noi, vi do l'appuntamento a domenica prossima. Buona domenica a tutti. Ciao!